ciao ed eccoci e benvenuto o benvenuta in questo nuovo video del corso di formazione su youtube in cui parleremo di quanti video pubblicare alla settimana o al mese quante sono le opzioni che ti do in questo caso voglio darti quattro opzioni partiamo dalla prima quella più complessa pubblica un video al giorno per quanto riguarda gli aspetti positivi ovviamente pubblicando un video al giorno darai a te stesso e alla piattaforma una costanza di pubblicazione di contenuti una costanza che appunto piace a youtube per quanto riguarda gli aspetti negativi invece quello che posso dirvi è che pubblicando un video al giorno i contenuti per ovvi motivi rimangono con poche visualizzazioni perché di fatto non si dà il tempo a youtube di ottimizzare la riccia di un contenuto magari del giorno prima perché il giorno dopo si va a pubblicare un nuovo video e quindi si mette tra virgolette altre altra carne al fuoco seconda opzione pubblicare un video a settimana questa qui a parere mio soprattutto in una fase iniziale non è diciamo una buona frequenza di pubblicazione perché punto a finiamo per farci dimenticare dalla nostra audience soprattutto se sei a inizi non hai un bacino di tenta non è un audience che è pronta ad ascoltarti non vede l'ora di guardare un tuo contenuto quindi pubblicare un video a settimana non aumenta il ricordo di te o dei tuoi contenuti nella mente delle persone del tuo potenziale pubblico della tua potenziale audience e seconda cosa tieni conto che il numero di video pubblicati ci aiuta ad aumentare il trust la fiducia verso il canale e se pubblichi un video a settimana in un anno arriverai a pubblicare 50 video se tieni conto che quello che è l'esempio che facevamo prima un video al giorno 30 video li pubblicaresti in un mese capisci che 50 video all'anno sono comunque una cattiva frequenza di pubblicazione o meglio una frequenza di pubblicazione che non ti consiglio se sei agli inizi magari ti consiglio se sei in una fase dove già un audience un bacio di utenza che ti ascolta non vedo l'ora che esca un tuo nuovo contenuto quindi in quel caso potresti andare a pubblicare un video a settimana semplicemente per dare una cadenza o creare tra virgolette un calendario editoriale che le persone possono capire in base alla tua frequenza di pubblicazione terza opzione due video a settimana in questo senso già ci stiamo avvicinando verso una una frequenza di pubblicazione a mio avviso buona in questo caso puoi valutare di pubblicare il lunedì e il giovedì il lunedì e il venerdì oppure il martedì e il venerdì analizzando ovviamente la tua dashboard il tuo back office su youtube studio potrai capire quali sono i giorni e gli orari in cui la tua audience è maggiormente sulla piattaforma quindi in quei giorni dovrai andare a pubblicare perché se in quei giorni le tue persone sono maggiormente sulla piattaforma senso che tu vada a pubblicare un contenuto nuovo perché saranno ben disposte di guardarlo la situazione ottimale invece a parere mio se sei in una situazione iniziale ma anche se sei in una situazione che potrai di canale avviato comunque una situazione che ti consente di pubblicare con costanza e ovviamente richiede un dispendere tempo energia nello sviluppo di contenuti ma a quel punto magari se sei sei una frequenza di tre video a settimana è perché tra virgolette hai fatto comunque il tuo canale youtube una professione e quindi hai anche una motivazione dietro la quale potrai andare a pubblicare questo potrai mantenere questo tipo di frequenza tre video a settimana appunto è una condizione attimale ovviamente è difficile da mantenere con costanza allo stesso tempo io alcuni spunti a livello di giorni in cui potresti pubblicare lunedì il mercoledì il venerdì il lunedì il giovedì o il sabato oppure il martedì il giovedì e il sabato ovviamente dovrai sempre anche in questo caso tenere conto da tuo dashboard quindi andando su youtube studio anche in questo caso dovrai vedere i giorni e gli orari in cui il tuo pubblico è maggiormente sulla piattaforma finiamo con un consiglio il mio consiglio è quello di iniziare a vedere youtube come se fosse il tuo canale televisivo e quindi di fatto come se fosse la tua emittente televisiva personale in questo caso considerando youtube come una tua emittente televisiva personale quali sono gli aspetti positivi? gli aspetti positivi è che ci responsabilizza perché noi sappiamo che dobbiamo rispettare la nostra audience e quindi per rispettare la nostra audience dobbiamo pubblicare contenuti nuovi e secondo aspetto positivo potremmo andare a questo punto a programmare quello che è un palinsesto e questa cosa quello che ti dicevo prima ci aiuta ad aumentare il ricordo dell'uscita del nostro video al nostro pubblico che di conseguenza imparerà a conoscere quando usciranno i nostri nuovi nuovi video ovviamente in questo caso impareranno se tu relativamente alla tua frequenza di pubblicazione pubblicherai negli stessi giorni e negli stessi orari terzo aspetto positivo del considerare youtube come un'emittente televisiva personale è la creazione di un'abitudine per la tua audience che così facendo riuscirà ad entrare sempre più in contatto con te diciamo in modo sempre più personale e quindi si avvicinerà sempre più a te per questo video è tutto noi ci vediamo nel prossimo video